Importanti sviluppi sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso in circostanze misteriose 12 anni fa. 38 cellulari sono stati sequestrati al colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, il principale indagato dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore di Pollica, ucciso con 9 colpi di spistola la sera del 5 settembre del 2010. L'obiettivo è quello di verificare eventuali messaggi o chiamate che possano confermare legami anche con gli altri indagati e risalire ad elementi utili sull'omicidio. L'ultima pista seguita dagli inquirenti è relativa ad un omicidio legato al traffico degli stupefacenti nel porto cittadino. Il sindaco pescatore era pronto a denunciare tutto, tanto che si era confidato con l'ex procuratore di Vallo della Lucania, Alfredo Greco.